Persephone Il mio caro amico Hermes è un maestro di manipolazione E quel tuo bastone sembra una delle sue creazioni Prova a usarlo A sud-ovest di qui c'è un avamposto nascosto nella mano di Ade Dei guerrieri sono stati avvistati nel suo palmo La rivolta sarà un vero spettacolo Se libereremo quei guerrieri